Prosegue il calendario delle aperture straordinarie della cascata del Toce, uno spettacolo che, grazie all'accordo tra Eno Green Tower e il comune di Formazza, si rinnova ogni anno con l'apertura della diga di Morasco. La diga, che forma un lago artificiale lungo 750 metri, largo 700 e profondo fino a 59 metri, è stata eretta tra il 1936 e il 19... News 24, la tua nuova TV locale.